come mischiare le carte in questo tutorial di oggi vediamo come mescolare un comunissimo masso di carte carte come queste sono carte chiaramente quelle da gioco per giocare a scopa briscola e via di seguito in questo tutorial vediamo come fare in concreto e non in astratto prendiamo le due dita o via i due mani ovviamente e facciamo in questo modo qua come state vedendo ora ecco qua 1 2 3 un po di ripassate vanno fatte un mazzetto si prende da destra da sinistra e lo si inserisce dall'altra parte andando rincastrare tra di loro facendo sì che il mescolamento possa avvenire in maniera corretta ripeto prendo un mazzetto di carte e lo vado a inserire nell'altro in maniera dare che vada a potersi inserire del tutto ripeto ecco qua state vedendo ancora inseriti e messi bene ovviamente in maniera orizzontale si mettono e non verticale non così così è sbagliato secondo la mia opinione per mischiare bene bisogna orizzontalmente fare una cosa di questo tipo ecco qua spero di esservi stato utile spero di esservi stato d'aiuto iscrivetevi se vi va mi raccomando commentate un saluto caro e al prossimo video da leandro narratore italiano